Benvenuti da Scoop Esclusivo. Se sei appassionato di gossip e notizie, ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti neanche un video. Ogni like, commento e condivisione è un sostegno prezioso per me e per il lavoro che c'è dietro ogni singolo video. La tua partecipazione attiva è ciò che alimenta la crescita del canale e mi motiva a creare contenuti sempre migliori. L'ex partecipante del Grande Fratello Vip ha preso la decisione di continuare la sua vita da sola, ma affronta delle difficoltà e ha confessato ai suoi seguaci di non essersi sentita bene nei giorni scorsi. Antonella Fiordelisi è tornata single dopo una serie di alti e bassi durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip con Edoardo Donnamaria. All'esterno del reality, sembrava che le cose andassero molto bene tra loro, ma la realtà era diversa. Secondo quanto affermato da Edoardo, l'attenzione di Antonella per i social media avrebbe logorato la loro relazione. In risposta a ciò, la Fiordelisi si è sfogata attraverso diverse storie su Instagram in cui lamentava il fatto che Donnamaria non volesse apparire con lei sulla piattaforma. La relazione tra i due era molto complicata e sembra che sia giunta alla sua conclusione. Nonostante Edoardo, almeno stando a quanto pubblica sui suoi profili social, sembri non essere troppo affranto per la situazione, non si può dire lo stesso per Antonella Fiordelisi. Più volte, Antonella ha parlato del suo cuore spezzato, ma non ha mai perso la determinazione, concentrandosi con tutte le sue energie sul lavoro. In una delle sue ultime storie su Instagram, Antonella ha fatto una confessione ai suoi fan, mi sento stanca. Forse perché non riesco a stare ferma? Devo dirvi che qualche giorno fa ho sofferto molto per la solitudine in casa e non mi sentivo bene, sapete che le persone che vivono da sole soffrono molto di più di forme depressive rispetto a coloro che vivono in famiglia? Poi mi sono fermata e mi sono detta, questa esperienza mi renderà ancora più forte, dovrei concentrarmi sugli obiettivi che mi sono prefissata. Quindi ti invito a lasciare un like e un commento sotto questo video per farmi sapere cosa ne pensi e per contribuire al successo del canale. Grazie di cuore per il tuo supporto e per essere parte di questa meravigliosa community. Grazie a tutti.